Quindi queste sono le bambine che dobbiamo far crescere con l'educazione e con la legalità. Non dobbiamo dimenticare... Nella città civile ci sono le importanze per esempio della ricerca su un altro almeno che è un futuro perché purtroppo di cose ce ne sono le più da luce. Abbiamo racconto circa 250.000 anni, 7.000 gravidanze che non furono soppresse, il 90% rimasto in famiglia, ne stiamo sostenendo circa 1.500. Shailur è una studentessa di quinte elementari. Ormai non più, perché io giro tantissimo nelle beniferie del nord d'Italia, perché poi l'autorità serve nel paese, nel progetto dello Stato, perché nessuno deve sostituirsi all'azione politica. La parte della politica, ma nel concreto, non con tutto. Allora è l'immagraziamento nello ad ordine. E questo dialogo oggi manca. Quindi per noi che lavoriamo in questo settore lei è oggettivamente odio. Grazie. Grazie.